È un bilancio indubbiamente positivo quello della diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Nella consueta cornice dell'Auditorium Parco della Musica, infatti, per dieci giorni il cinema e lo spettacolo sono stati i grandi protagonisti. Tutti i giorni e tutte le sere l'area si è riempita di attori, registi, produttori, sceneggiatori e direttori della fotografia, ma anche di grandi ospiti come musicisti e influencer. A dominare su tutti è stato il film lettone January, diretto da Vistur Kairisch, che si è giudicato il premio di miglior film e di miglior regia da parte della giuria della Festa del Cinema di Roma. I veri protagonisti, però, sono stati tutti i grandi nomi del cinema italiano e internazionale che si sono alternati nelle sale conferenze e sul red carpet. I mattatori del grande e del piccolo schermo, da quelli più famosi e longevi fino alle stelle emergenti, hanno portato prestigio e freschezza. Questa diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma, infatti, prosegue sulla scia delle precedenti e conferma la tendenza dell'attenzione ai nuovi generi e alle generazioni più giovani. Sul red carpet, la protagonista assoluta è stata la bellezza. Contatte attrici e ospiti che hanno conquistato il pubblico e gli obiettivi. Un esempio è senza dubbio quello di Anna Falchi, che si è presentata con un outfit decisamente audace, fatto di ammalianti trasparenze. O il look, vistoso e appariscente, di Numira Pass. A rubare la scena, con una bellezza e un fascino innato, è però Miriam Leone, tra i protagonisti di War, la guerra desiderata. Un altro valore aggiunto, l'eleganza e l'ironia di Drusilla Foer. Questa edizione del Festival del Cinema di Roma sarà però ricordata anche per diverse anteprime, a cominciare dall'attesissima quarta stagione di Boris, che andrà in onda su Disney+. Per finire poi a Ergolde Turone Rabbono, un docufilm che racconta, con le voci dei protagonisti e dei tifosi, uno degli episodi più controversi della storia del calcio italiano. Grazie per la visione!